Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Durante il concerto di Anna Tatangelo a Giulianova, la cantante ha dovuto abbandonare il palco a causa di un dolore improvviso al braccio. Mentre eseguiva essere una donna Tatangelo ha avvertito un forte dolore e, nonostante il tentativo di continuare, è stata costretta a ritirarsi. Il pubblico ha poi scoperto che il malore era causato dalla puntura di una vespa, che ha colpito anche un papà e suo figlio presenti al concerto. Fortunatamente, i medici della Croce Rossa intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure. Dopo un trattamento con pomata e ghiaccio, la Tatangelo ha condiviso un video sui social, scherzando sull'accaduto. Sebbene la puntura possa causare reazioni gravi come lo shock anafilattico, nel caso della cantante non ci sono stati problemi seri, solo un momento di spavento e un braccio gonfio.